Peggy 3 No Aiuto Aiuto Bella giorno Ok Comunque Di dammi tutta la roba Di banno dal tuo sesso server Sempre così Il secondo giorno Basta di banno dal tuo sesso server Mi serve il cibo No Da dove sta la casa aspetta Ma l'ha interrata Ah no Che cazzo Comunque Si può uscire che non mi è interrato per niente Ma dove eri? Ah ti sei terribile portato Mamma mia che teletrasportone Ora ho registrato Inizio a registrare Che sto già registrando Un altro? Si Ma dove sei? Ecco sono qui Vabbè 3,2,1 C'è tutti ragazzi Eccoci nel secondo episodio di Minecraft FDB Cop Seconda stagione Seconda stagione è giusto Io ho già iniziato a fare video Mentre Mi è già ucciso Da sottolineare Seconda stagione è giusto Seconda stagione è giusto Seconda stagione è giusto Quanti in quanti minuti in quattro d'ora E' già è giusto Per quanto per quanto fa Intanto io sono Sono finita la pala E' mi è fregato Eh ma Cosa C'è qua Dai dobbiamo scavare E' qui dai Svegli giuro che non lo vedo Oh e qui Guardi 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 La mette nella cesta Perché non ti vedo Va bene Quindi posso fare Molto semplicemente M We point Casavrovisoria Teleport Molto figa Stavola Ma hai fatto dentro Ma hai fatto dentro Cosa E poi Anche stavo Tipo Eh due blocchi di stanza Però vabbè la stessa cosa Dove sei? Eh sto scavando Scusa E' che lagga Ma io non ti vedo Giuro Oh io sto qui a scavare Ma tu vedi le cose che si scavano Sì Bello No ma dai che bugato Che le cacchie Ma aspettai Mi ritele trasporto Vabbè non sto a scambio Mi vedi? No neanche Esci 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 Rintra No dopo Rilacca 2000 2000 Se Mi over nel palco Laga 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 Un che abbiamo già trovato Il ferro C'è io ho trovato Mamma mia Quanti Alpire della gomma Uno Ah beh sì Sono molto Sono molto Frequenti Quelli Comunque vieni qui A aiutarmi a scavare No aspetta Oh qui c'è No non ci credo Che cosa Abbiamo trovato la piramide Di che cosa Quella lì I tempi I tempio Di sabbia tipo Sì Ah Ah sì sì Vabbè quelli sono di minecraft Aspetta non ci sono le ceste lì Eh infatti Allora fammi posare tutto quanto Aspetta A me mi servicivo Anzi no aspetta Prima uccidemi Perché Aspetta Anzi no aspetta Dunque grazie alla sua uccisione Mi sono E infatti Anche io Anch'io Anche da fare come Ma ma che casino Anche da fare Cosa Allora vediamo Sono a casa A finire Aspetta Anche un vulcano Vini vulcano Aspetta Vieni qua Vieni a casa E uccidimi No No dai per favore Mi devi Mi devi uccidere No ti ti prego uccidimi Uccidimi dai Dai no partiti scherzo Giro non ho mai sentito Uno che diceva Ti prego uccidimi Dai uccidimi per favore Mi serve Non posso Non c'è acqua qui Il tonno E ormai sto qui Mamma mia Vabbè aspetta Metto un waypoint Aspetta Guarda 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 che faccio Che faccio scherzo Tutto Di sabbia Ok adesso Cm Waypoint La stossa Ma no 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 Ok Ok dove stai Sono fuori Aspetta Mi sono bloccati In una fossa Aspetta Che mi sono bloccati In una fossa Ok vai Mi vedi Dove sei Sei scomparso All'improvviso Ah ecco Un attimo Bella Anche morto Che bello Essere morto Sì infatti Un attimo Un attimo M Waypoint Tempio di sabbia Che bello Essere morti Quanto è figa Stai Mamma mia Che casino O io O io O io O io O io Forse vado adesso Perché c'è un casino Assurdo Ok ciao 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 ciao